Ok, ringrazio Celestino Lertora per avermi nominato a questa, come posso dire, Isla Challenge. I presupposti sono giustissimi, quindi bisogna donare. E quindi a sua volta nominerò i miei cugini Sandro Pittari e Alessio Minoli, i miei amici Andrea Cordì, Aaron Crash Beltrami, Simone Terrici, Max Spina e nomino l'amica fan numero uno, Marina Garibotta. Che cosa è più semplice?